Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft MC Eternal. Rispetto allo scorso episodio ho potenziato il rituale che aumenta la crescita, ho fatto un ancora e l'ho messa qua, ho cambiato il rituale e ci ho aggiunto il tratto di Ulteria, che aumenta l'efficacia riducendo il raggio, e adesso le pumpkin crescono un po' più velocemente. Se ci metto anche Horologium diventa ancora più veloce. Ci ho messo Horologium perché ho voluto fare il Terra Steel Seed, che ne richiedeva 4, e l'ho portato a 10-10-10. E perché lo vedremo tra un po'. Ora, dato che ci sono queste, ne ho trovate altre due di molto interessanti, che sono quella per l'Iron e quella per la Redstone. Nello scorso episodio ho detto, cosa ci faccio con questo oro? Beh, lo uso. Siamo poveri per il momento, quindi possiamo utilizzarli come quarry. E per questo sarebbe davvero molto carino avere delle Ender Tank per trasportarli, quindi... A proposito dell'Astral, ho cambiato un pochino il setup, l'ho coperto perché il bianco mi sembrava troppo un po' mio in un occhio. Questi non lo so ancora perché non si possono coprire, se no si incasina tutto e smettono di funzionare. Ho tolto la produzione di Starlight perché vorrei sistemarla in un luogo più permanente e renderla infinita. E parlando di quarry, lui ha continuato a funzionare e durante la notte l'energia scende un po' in particolare quando c'è il Mineralis nel cielo, perché il rituale è più potente. Al momento l'ho disattivato perché c'erano dei pipistrelli e anche degli ipogrifi e avevano un pochino fatto macello, quindi adesso lo riattiviamo. Il risultato non è per niente male e otteniamo anche questo Mithril Ore, che è una cosa che vorrei assolutamente provare perché l'armatura di Mithril dice 35% di chance di bloccare tutto il danno. E vuol dire che se mettiamo tre pezzi dovrebbe darci più del 100% di possibilità di bloccare tutto il danno, quindi diventeremo immortali. Almeno così l'ho letta, è da provare, solo che il Mithril è parecchio raro, ho provato a utilizzare lo scanner ma qui vicino non c'è neanche l'ombra. I zombie continuano a spawnare perché sono considerati neutrali, infatti sto considerando l'idea di diventare io stesso un vampiro. Direi di fare una mob farm nel nether, la farm è finita, abbiamo uno nel off per le luci, i vari farm indietro che spengono tutti verso il crusher, il crusher ha 10 di routing e adesso lo attiviamo. È su una fortezza, quindi dovremmo ottenere anche Wither Skeleton, per il momento sono interessato alle blazerod. Mi stavo chiedendo come mai non funzionasse bene, ero dimenticato di attivare i fan. Oh adesso si che si ragiona, ecco qua le blazerod. Per quanto riguarda l'acqua marine lo otterremo dai semi della Mystical, perché secondo me questo generatore è un po' laggoso. Per il momento direi di comprare 8 di plastica, per 2 quindi 16, e punterei a un Plant Interactor. Questa cosa che accetta qualsiasi machine casing di qualsiasi altra moda è bellissima, dalla 1.16 diventa tutto più difficile. Mentre così abbiamo già il Plant Interactor. Quindi qui abbiamo la Fertilized Dirt, l'Acqua Marine Seed, il Plant Interactor. Ha bisogno di energia. Per trasportare l'energia wireless direi di iniziare e anche finire la Flux Network. Quindi come al solito creiamo un Network, stavolta lo facciamo azzurro. Direi anche di attivare la ricarica wireless. Ora direi di mettere un Fax Plug qui sopra che prende l'energia. Output è arancione, quindi si mi ha appena caricato i Boots. Ed ecco qui la tua energia. Il Plant Gatherer funziona meglio? Teniamo tutto nell'inventario. Crafter che converte l'essenza in acqua marine. Ed ecco qua una farm infinita. Direi di fare 8 Ender Chest blu che riseranno ad accumulare acqua marine. C'è un problema. Pensavo di risolvere in questo modo utilizzando un Ender Chest. Mettendo l'acqua marine dentro Lightwell e il Lightwell inseriva all'interno del Containment Chalice. Il problema è che per assolvere Liquid Starlight ha un raggio di 16 blocchi. E lo sta prendendo anche il calice di Output. E questo non va bene. Direi di fare l'Empowerer dell'Actual Readdiction. Ed ecco qua l'Empowerer. Ora direi di convertire 4 blocchi di Diamante. Prima in Diamantine. E poi nella versione Empowerer. Ho già settato i vari pezzi di clay e il Light Blue. In Diamantine serve per fare le Phantom Face. Versione per Liquidi. Quindi ho settato i Lightwell qui vicino. E basta dirgli di estrarre su verde. E dovrebbero prenderlo tutti. Il Liquid Starlight viene subito preso e inserito all'interno di questa Ender Tank. Ricordiamoci che vogliono vedere il cielo. Qual è il problema con il Containment Chalice che accetta input solo dal basso. E nel basso c'è l'Evershifting Fontaine. Volevo provare a vedere se facendo così. E mettendo su Output. Phantom Face Liquid. E selezioniamo il Containment Chalice. E lo linkiamo alla Phantom Liquid Face. Ok. Non vuole l'Ender Tank collegato sotto in Output. Ma vuole un cavo. E con il cavo funziona. Spettacolo. Quindi ho fatto lo stesso setup per questa fontana dell'Iron. Che produce Iron all'infinito. È in un liquido. Lo sto cobertendo con il Casting Basin. Stessa cosa per un'altra fontana che ho trovato di Redstone. E questa volta l'ho linkato a un Ender Chest. Così come quella dell'Iron. E lo stesso per il Refined Fuel. Che andrà a finire in questa Ender Chest. Gialla, gialla, gialla. E anche l'ora è settato. Ora mi basta ciancludare le zone. Ho una brutta notizia per me. Refined Fuel. 486.000 mb. E basta. Adesso c'è acqua. Perché ho sbagliato a leggere. Cioè ho letto e non ho capito. Cosa è sorprendente è il fatto che l'essenza dell'acqua fluisce per riempire tutte le aree attorno alle altre fluid essence. Quindi agli altri tipi di liquidi che non sono acqua. Compreso il vuoto lasciato per aver estratto tutto un altro fluido. E che vuol dire che sono limitati. Quindi questo è il limite massimo. Da adesso in poi stralerà sempre acqua in questa posizione. Lo stesso vale per l'Iron e per il Gold. Ne ho fatto una bella scorta. Comunque abbiamo 365 blocchi di Iron. 300 lingotti comunque ne ho usati un po'. E lo stesso vale per il Gold. E per la Redstone. Però non è sostenibile. Quindi fine. Progetto liquidi infiniti con la Stral. Perché non sono infiniti. Qui come si può vedere continuano a passare dei mob strani. E il cristallo continua a fratturarsi. Ma almeno questo è tanta roba. La Liquid Starlight non ci serve più. Quindi ho spostato il Plant Gatherer qua per raccogliere Terra Steel. Perché il Terra Steel ha intenzione di venderlo. Solo che per venderlo dobbiamo prima sconfiggere il Guardian of Gaia. Per evocarlo avremo bisogno di un po' di Elementium e di Pixie Dust. Per fare 4 Gaia Pylon. Ho ottenuto un'altra Red Star sempre da questi intestini. Quindi ci abbiamo il beacon. Giusto per andare sul sicuro direi di spuntare un Dylion Podem. E di riempire 3 silinghe. Poi di fare il modulo per la rigenerazione 1. E il modulo per la rigenerazione 2. Che è da rigenerazione 3. Che mettiamo qua insieme al Saturation Modifier. Questo ci consuma 27 RF per T che abbiamo Saturazione e Rigenerazione 3. E con questo lo abbiamo sconfitto. Ok. Ecco qua 8 Gaia Spirit. E adesso la quest dovrebbe essersi completata. Quindi possiamo iniziare a vendere Terra Steel. Per vendere ci basta andare qua. In cui ci introduce alla vendita. E ci chiede un Task Screen. E un Reward Collector. Ed eccoli qua. Quindi al posto del Drawer ci mettiamo il Task Screen. Selezioniamo la quest del Terra Steel. Che il pipe dovrebbe collegarsi adesso. Ok. Ho dovuto romperlo e ripiazzarlo. Però adesso dovrebbe farla. Quindi abbiamo completato la quest. Sì. Ora per collezionare le ricompense. Reward Collector. Seleziono la ricompensa col Terra Steel. E come possiamo vedere sta andando. Ma non capisco dove sta mettendo le monete. Ce le sta mettendo direttamente nello Shop. Oh wow. Bello così. Ok. Allora ho sistemato. Aggiungendo dei pipe. Perché non abbiamo ancora gli Speed Upgrade. Ma questa cosa mi sembra. Che questa molto rotta. Abbiamo 350.000. E la produzione si è un po' rallentata. Però mi basta. Ingrandirò un pochino. E avremo soldi infiniti. Ora invece vorrei proprio. Vedere di raccogliere. Un paio di ricompense. Per vedere che cosa ci danno. Quindi inizio a laymarle tutte. C'è un'intera sezione per la botagna. E non ce l'ho contata. Perché non ho fatto questo check mark. Hmm. Raccolto tutte le queste. Ci ha dato un po' di cose. Che non credo ci serviranno. Ma la cosa più interessante. È che con questi soldi. Possiamo comprare. Creative modifier. Né di comprarne 4. Oh sì. Ci facciamo gli strumenti indistruttibili. Ci terrei anche a precisare. Che qui. Ho settato un altro paio di filtri. Con quelli dell'extra utilities. Perché possono essere messi uno all'interno dell'altro. E concatelando lì si può fare un filtro enorme. E ho filtrato tutti questi item. Per quanto riguarda l'obsidian chestplate. Prima mi sono assicurato di raccoglierne abbastanza. Per poterne fare almeno 4 all'interno della smelterie. Perché possono essere smelutati. Per poi poter fare il seme. In questo modo non dovremmo più preoccuparci di fare l'area di panie d'obsidian. Per gli unbratable modifier servono i blanks di gold. Quindi ho messo qui la smelterie. La ingrandirò sicuramente. E ci facciamo i vari reinforcement modifier. Prima che voglio rendere indistruttibile è il piccone. Perché ripararlo con il cobalto è un po' pesante ogni tanto. Quindi ne avevo aggiunto il living wood to rod. Che aggiunge modifier. Si ripara anche da solo. Quindi abbiamo un modifier in più in teoria. Quindi basta aggiungerne altri 3. E possiamo renderlo indistruttibile. Ed eccolo qua. Direi di fare lo stesso per lo shuriken. Ne aggiungiamo uno solo. E poi lo facciamo indistruttibile. Mi sono anche accorto che questi unclaimed black market costano davvero poco. E non so che cosa possono droppare. Però direi di prenderne uno stack giusto per vedere. Spero che non droppino troppa roba. E ci siamo. Hydra chop. Supprimium apple. Yu Yu Matter. Una spada con 40 di attack damage. E durabilità di 1. Ok. Cosa? Un digital miner? Ok. Questo è molto buono. Non pensavo potessero dropparlo. Perché la lista è infinita. Quindi non ho controllato tutti gli item. Ma questo è ottimo. Ora mi farei un seme dell'ossidiana. Perché ci sono altri strumenti che vorrei rendere indistruttibili. Ho finito l'ossidiana. Ed è un po' lento da minare. E ora anche la spada è indistruttibile. Sto diventando un pochino più dirigente. Anche se non troppo. Mi sono d'accordo che tutte le precedenti clip erano mutate. Quindi riassumo brevemente che cosa sto facendo. Ho gradato la smelterie. Ho fatto i vari alloy della Thermal. Come per esempio Enderium. Electrum, Bronze e Signalum. Per fare delle Magmatic Dynamo. E ho gradarle direttamente a Enderium. Perché possiamo farlo. Ho fatto una pozione di Fire Resistance. L'ho buttato sulle mucche. E poi gli ho dato una pozione di Molten Lava. E una mucca si è trasformata in due Mogma. E adesso sto aspettando che crescano. Perché una volta cresciute. Ci possono milcare per ottenere Lava Infinita. E qui ho comprato parecchi market. Dato che c'è voi soldi. E anche adesso potrei farlo. E mi sono messo questi Large Storage Creep. Che hanno tre pagine. Per vedere che cosa usciva. E alla fine ho ottenuto delle cose piuttosto interessanti. Come per esempio il Solarium Large Plate. Che può essere smentato a un valore di Mining di Vibranium. Dragon Steel Chest Plate. Che possono essere smentate nella smelterie. Per il Fire Dragon Stealing Hot. E lo stesso per l'Ice. Solo che è solo nella forma di PkX. I vari strumenti invece possono essere convertiti solo all'interno di un Edge Full Maze. Quindi va bene così. Beacon, Nether Star, Ice Dragon Blood. E Blitz Rod. Che sto utilizzando per fare la Blitz Powder. Per fare il Signalium Upgrade Kit. E lo sto facendo adesso. Quindi altri quattro Gear. E ci siamo. Ora manca solo il Signalium che è Lumium. Ok questo devo ancora farlo. Glowstone Silver Retin. Ed ecco qua il Lumium. E con quattro Gear abbiamo anche il Resonant Upgrade Kit. Ora possiamo combinarli tutti insieme. E convertire le Magmatic Tenamo. Che da 40 passano a 120 senza prele. Ce ne sono quattro disponibili. Il setup è completo. Quindi possiamo togliere questo Flux Plug da qui. Tutte e due le mucche sono cresciute. Quindi ci prendiamo una. E la mettiamo qui dentro. Poi chiudiamo. Prendiamo un Rancher. E lo mettiamo qui davanti. Come stavo dicendo. E lo mettiamo qui davanti. Poi rimettiamo la mucca che mi impediva di posizionarlo. Per il momento ci mettiamo uno Spetter Coil. Per dargli energia. E dovrebbe iniziare a prendere Lava. Perché non stai prendendo Lava? Volete sapere perché non sta prendendo Lava? Perché sta guardando verso destra. Ok ora è giusto. Perfetto. Ecco qua la Lava. Iniziamo di estrarre. E qua iniziamo a produrre energia. E la colleghiamo al Flux Plug. Ora dell'efficienza non ci interessa troppo. Ma in realtà neanche dell'energia. Quindi gli do un upgrade per produrre più energia. E per adesso basta. Quindi sono 240 per 4. Ora ho messo un Acrous Accumulator. Perché vorrei dare a queste Dynamo. L'Augment Isentropic Reservoir. Che dovrebbe aumentare di molto l'energia. Ma richiede il gulant. Che può essere Creoteum o Acqua. Direi di mettergli l'acqua. Per farla bisogna di una Plate di Invar. Che può essere fatta solo all'interno dei macchinari. Quindi direi di fare un Compact. Ed eccolo qua. Quindi ecco le Plate di Invar. E il resto dovremmo avercelo tutto. Sì. Ecco qua. 4 di questi. Ora glieli inserisco. E gli dico di estrarre anche l'acqua. Ah però. Producono 600. È tantino 600 rispetto a prima. Ora vorrei applicare il Solarium Magnum Piccone. Solo che vuole del di Lithium. Perché la lava non è calda a sufficienza per poterlo smeltare. Quindi sostituiamo questa tank. E ne mettiamo una nuova. E ci mettiamo il Liquid di Lithium. E poi andiamo a smeltarlo. Perché continuo a vedere la lava? Forse rompere e ripiazzare il controller? Ok. Ora lo smelta. Perfetto. Quindi ci voglio fare la testa del piccone. E anche uno Sharpling Kit. Questo perché ho notato che ha un tratto particolare. Che è super heavy. Più scavi più ti fa sentire stanco. Ora non so. Se ci da slowness o Mining Fatigue. Nel caso rimetterò il Cobalto. Per sostituirlo. E farò lo Sharpling Kit per portare su il Mining Level. Il fatto è che ha una Mining Speed straelevata. Cioè di 28. E ce lo porta da 19 a 32. Quindi direi almeno di provarlo. Già che c'ero. Direi di upgradare anche tutti i macchinari. E anche l'Energy Saddle. Gli ho upgradati tutti a Resonant. Ora direi che è arrivato il momento di sistemare il Corri Magico. Anche se adesso non è per niente magico. Dato che viene scavato da un Builder. Direi di renderlo completamente magico. Prima di procedere con la Blood Magic. Ho spostato tutte le Grave che erano lì qui. Ho fatto un tempietto. Ho convertito quella dell'Astral in una. In un Mausoleo praticamente. E le Grave si possono customizzare. Quindi direi di prenderci una Grave Plate. Un ingotto di Iron. E metterci. Progetto. Energia. Astral. E la mettiamo qua. Questa sarà la prima. Tomba. E' stato bello. Ma ci mancherai. Se per caso qualcuno sta guardando questo video. Magari vuole essere messo qui dentro a fare compagnia al progetto dell'Astral. Se mi lasciate un commento con un nome vi posso mettere qui. Ho ripetito un pochino questa zona dagli alberi. E da quello che c'era qua. E ho notato che cosa fa Super Heavy. Come si può vedere. Blocks. Broken Blocks. E' un numero che sta diminuendo. Quelli sono tutti i blocchi che ho rotto. Che influiscono con la velocità di mining. Conta anche la Vay Miner. Quindi forse lo toglierò. Quindi craftiamo un Incense in Altal. Per avere più efficienza quando ci togliamo vita. E con il Sacrificial Dagger iniziamo a riempire. Di sangue. Ci mettiamo una di stone. E la convertiamo in Blank Slate. Queste Blank Slate serviranno per fare le Blank Rune. E ci vediamo a tra un po'. Quando utilizziamo il Sacrificial Dagger con l'Incense Altar. Ci viene dato un effetto. Che è Soul Fray per 17 secondi. Questo riduce di tantissimo la quantità di sangue che immettiamo. Tramite l'Incense Altal all'interno del Blood Altar. Però è considerato un effetto negativo. Quindi ho ottenuto un altro perk. E direi di sbloccare questo. Rigenerare vita può togliere effetti negativi. Come possiamo vedere è scomparso subito. E queste sono cose di due stack di Blank Rune. Quindi lì c'è la reda per la battaglia del Gaia Guardian. E qua faremo il nostro altare. Metto già Inchian Crudilla Rea. Che se no poi mi dimentico. E questo altare lo utilizzeremo per produrre LP all'interno del nostro network. Direi di portarlo a un tier successivo. Ma prima vorrei fare delle Rune. Come per esempio quelle di Self Sacrifice. Vorrei upgradare. Non è che vorrei. Bisogna farlo. Upgradare la Blood Orb. Ed eccola qua. Ci è venuto un po' ma ce l'abbiamo. Ha dovuto staccare Orlodium. Perché andava troppo veloce. E non riusciva a riempire il sangue abbastanza velocemente. Ora possiamo fare anche degli Storm Path. Per aumentare. No non possiamo farli. Ma stavo dicendo dei Wooden Path. Da mettere qui sotto. Per aumentare la sua efficacia. E per il momento questo bonus va bene. Ho messo un po' di acqua. Del fogliame. Patate. Carote. Grano. E beetroot. E adesso praticamente lo riempiamo sempre. Perché ha una capacità piccola. Quindi direi di fare delle slate di tier 3. Quindi Inward. Per poter fare. Delle Rune of Capacity. E anche di Self Sacrifice. Quando pari ho completato una quest. Di tempo. Poi facciamo due Petty Tartaric Gen. Una la utilizziamo per convertirla in una Sentience Sword. Direi di incantarla per vedere se riusciamo a ottenere Sharpness. Nella fine abbiamo Smite 2 Looting 2 XP Boost 2. Poi operiamo la Petty Tartaric Gen. Ah non funziona? Bisogna farne un'altra allora. Ecco qui la Petty Tartaric Gen. E adesso me lo fai? Sì. Nelle recenti versioni guarda anche le Will che sono all'interno di questa. Se la metti qui. A quanto pare qui no. Ora la portiamo a Common Tartaric Gen. Fino ad ora avevo raccolto le Will. Uccidendo i Piglin. Però. Ne servono troppe. C'è bisogno di una Bob Farm. E anche ci sono direi di utilizzare un Restored Mob Spawner. Solo che è davvero lento. Quindi direi di produrre un po' GP per velocizzarlo. E ci mettiamo a convertire la Polished Stone in Stoneburn. La Time in a Bottle è molto più veloce. Non so perché. In ogni caso ci facciamo i Water Will che sono i più efficaci. Quindi qui abbiamo il solito setup con i 4 Water Mill per produrre 64 Grid Power. L'ho fatto in questo chunk che è sempre caricato dove produciamo anche l'energia. Poi si convertono le Gold Pressure Plate in Upgrade Base. E ci abbiamo già la Recipe per gli Speed Upgrade. Questi si possono staccare fino a 4. Quindi su questo Restored Mob Spawner posso mettere 4 Speed Upgrade. Per renderlo un po' più veloce. Troppo lento. Quindi direi di fare un Enchanter. Che metteremo qui. Diamo un Point con l'energia. L'ho messo qui perché vuole delle librerie. Queste due gli danno 30 livelli. Apple e Lapis danno le Magical Apple. Lapis e Oro danno l'Enchanter Dingort. E con questi si possono fare degli Speed Upgrade che si possono staccare fino a 16. E ok, ora è una velocità decente. E adesso dobbiamo avere tutto per fare il Binding Reagent. Ora invece facciamo le Cane Ashes. Ed eccola qua. Poi una spada di diamante. Disegniamo un cerchio per terra. I cerchi in Minecraft. Aggiungiamo questo e aggiungiamo questo. Ed ecco qui la Bound Blade. Con questa se uccidiamo dei mob. Una volta fatto Shift Reagent nell'aria. Dovremmo ottenere delle Weak Blood Shard. Ne basta una per fare 16 Large Bloodstone Tile. Li facciamo in versione Brick. Li posizioniamo qui. Sopra. In modo tale che ora il nostro altare sia un altare di Tier 5. Ho già fatto i Beacon e dovremmo esserci. E la prova del nome è sempre fare le Terre a Slate. Ora vorrei provare a fare l'ultima Orb. Solo che non so se ci riesco. In caso tolgo Corlogium. Ed eccola qua. Quindi mi sono fatto un'ottantina di Reinforced Slate. In modo tale da fare un po' di Ritual Stone. Poi una Master Ritual Stone. Ora avremo bisogno del Ritual Divine. Quindi facciamo Ritual Diviner. E poi lo crediamo a Dusk. Ok. Dusk. E adesso abbiamo bisogno di un po' di sangue nel network. Quindi la iClick per linkarla a me. E la metto qui sopra. Lentamente svuoterà il Blood Altar e riempirà il nostro network. Ora però vorrei fare un Divination Shigil. Per capire più o meno che cosa sta succedendo nel nostro network. Abbiamo 47.000 di Essenza. E in realtà dovrebbe essere tutto pronto. Direi di smantellare l'Altare della Tranquillità. Poi mettiamo la Master Ritual Stone qui. Linko un Enn, Nedstar, Large Mage, Blood Orb. Per fare l'Awakening Activation Crystal. E inizio a scorrere i vari rituali. Fino a che non trovo Well of Suffering. Ho 44 Ritual Stone che dovrebbe bastare. Continuo a fare Right Click. E il rituale è completato. Ora se faccio Right Click. Shift Right Click. Right Click da più vicino. Dovrebbe attivarsi. E ho visto uno Zombie qui sotto. Esatto. Lo Zombie sta iniziando a prendere danno. Perché sta iniziando a mettere i suoi punti vita qui dentro. Come possiamo vedere stanno aumentando. Ora non so bene perché. Però gli animali danno 100 al posto dei Mobostini che danno 25. Quindi ho spostato l'Invaramento al controller qui sotto. Gli tolgo Saturazione perché non serve agli animali. E tengo solo rigenerazione. Attacco alla corrente. E per esempio se metto un maiale qua. Come possiamo vedere sta aumentando la vita. Perché ha rigenerazione. Ho portato un altro paio di maiali. E abbiamo una famiglia infinita di sangue. Per evitare che Despownino direi di fare delle Name Tag. E l'unico modo relativamente semplice che ho trovato è l'Alchemy Catalyst. E Book and Quill. Li chiameremo semplicemente Pig. E così ora hanno tutti un nome. Direi di chiudere questa zona. Perché non vorrei che un vampiro entrasse e gli mangiasse. Quindi una volta coperto e illuminato dovrebbe essere al sicuro per sempre. E noi stiamo guadagnando Essen. Ora qui ho selezionato il rituale del magnetismo. Quindi andiamo a costruirlo. E una volta completato lo attiviamo. Ora se riattivo Mineralis. I blocchi vengono presi e spostati di sopra. Ok perfetto. Questo era quello che volevo vedere. Li raccoglie in un cubo di 3x3 di sopra. Avevo già preparato un Hammer di Living Wood con 6 modifier. Direi di cambiare la testa da certo sforza Cobalt. E aggiungergli Fortuna 3. Ed eccola qua. Di renderlo indistruttibile. Poi direi di aggiungerci un Firewood Large Plate. Che dovrebbe aggiungergli il tratto di Autosmelt. E questo è Autosmelt Fortuna 3. Il Mining Level è del Cobalt. Quindi è anche piuttosto alto. Qui abbiamo un Mechanical User. Ci metto l'Hummer. Uppers Left Only. E poi un Absorption Upper sopra. In realtà funziona. Appena arriva un blocco lì sotto. Li rompe tutti. Con Fortuna 3 Autosmelt li mette qui dentro. Questo è Or perché non si può smeltare. Ma per esempio il Black Force lo ha smeltato in automatico. Sono piuttosto perplesso da questo rituale. Pensavo che fosse leggermente più veloce. Invece sembra che... Cioè per un attimo pensavo che si fosse impallato. Invece è sul serio stralento. E... No è troppo lento. Ora invece. Lato che abbiamo praticamente concluso la Blood Magic. Direi di provare il Ritual Mark of the Falling Tower. La struttura è piuttosto grande. Spero di avere abbastanza Ritual Zone. Ne ho fatti uno stack. E ne vuole più di uno stack. Ok. Io ho fatto un altro stack. E l'ha concluso. Perfetto. Ora ci facciamo un bel pillar di Ossidiana qui sopra. Perché in teoria dovrebbe piovere un Meteorite dal cielo. Ora non so quanto serva. Ma così. Giusto per evitare che distrugga il rituale. Questa sera ci sarà Horlogium nel cielo. Vorrò provare a fare degli altri enchant. Perché so che può arrivare fino all'ultimo 6. Fortuna 6. In ogni caso, da quello che ho capito, si possono fare dei sacrifici per questo Meteorite. Ora non so bene come si facciano. Forse lo droppo sopra. Intanto proviamo ad attivarlo. Ne richiede parecchio. Ma dovremmo prendere abbastanza. Quindi. Dai click. E droppo. Un Diamond Block. Oh wow. Cioè per un diamante. Quanti diamanti ci vengono fuori con questo? Cosa? Cosa? Ehm ok. Questo mi piace parecchio. Ora se invece lo riattivo e ci droppo un blocco di ferro. Oh wow. Questa cosa mi sembra enorme. Ehm. Ho scavato tutto il Meteorite con Fortuna 4. E autosmalte. E questo è il risultato. Credo di non avere neanche spazio all'interno dei vari crate. Ok si alla fine c'è stata. Ho anche aggiunto un large storage crate. Ehm. Buono così. Nella wiki c'è scritto che può accettare anche una netherstar. Non so se la wiki intende la versione 1.7.10. Perché all'interno di questo libro non c'è. Però direi di provare lo stesso. Quindi vediamo se l'accetta. Right click e poi droppo la netherstar. Ok non l'accetta. Quindi adesso prenderà un Meteorite normale. O nulla. No. Sembra che è obbligatorio droppare il blocco. E questa volta direi di farlo di oro. Per vederli tutti e tre. Ok l'ha preso. E ci ha dato minerali rari e anche nulla. Questo è il risultato. Tanta roba. Per gli incantamenti ho provato a fare Horologium, Horologium e Aevitas. Vorrei provare a vedere se ci dà qualcosa in più rispetto a Fortuna 4 e Looting 3. Fortuna 6 e Looting 5. Molto meglio. E ok ho sistemato lo storage con un drawer controller e un muro di drawer come faccio di solito. E l'ho messo qui sotto. Ho convertito tutti gli storage crate a large. Per sbaglio ho creato questo portale mentre cercavo di inserire un token all'interno dei drawer perché ne ho aggiunti un paio. E ho aggiunto altri filtri qui. E adesso sto mettendo da parte Blood Bottle perché vorrò iniziare la One Prism in un futuro prossimo episodio. Qui ho fatto il sistema con la Lens of the Miner dato che adesso abbiamo l'energia alla ricerca dell'osmium ma non l'ha dato. E ho provato tutti i metodi per poter superare la necessità di andare in altre dimensioni per ottenere degli ore. Ma né con l'Astral né con la Blood Magic né con l'Actory Addiction ci sono riuscito. Peccato. E direi di concludere mettendo una V qui. E direi di concludere mettendo una V qui.